Tu non lo sai come vorrei ridurre tutto ad un giorno di sole Tu non lo sai come vorrei saper guardare indietro senza fare sul serio Sarà ripetuto nel prossimo fine settimana al Centro Euronics Gruppo La Via Lattea di Barcellona l'evento dedicato agli sposi che si è celebrato sabato e domenica scorsa al Centro Euronics di Contrada Malvicino a Capodorlando Saranno rinnovate le esposizioni, degustazioni, sfilate di abiti da sposi e da sposo per questa che è la settima Expo Galleria degli Sposi tutto per un matrimonio perfetto A Capodorlando la manifestazione ha fatto registrare un buon successo di pubblico Tu non lo sai come vorrei ridurre tutto ad un giorno di sole Tu non lo sai come vorrei saper guardare indietro Ringrazio io tantissimo al proprietario di Euronics che sia l'anno scorso sia quest'anno mi ha dato questa bellissima opportunità di presentare i miei capi che sono abiti da sposo e capi eleganti per lo sposo, la sposa e gli invitati C'è chi si sente in pericolo, c'è chi si sente un eroe, che invecchiando è più acido, che come il vino migliora Tante persone più dell'anno scorso, un grande successo come sempre Ringrazio tutti i partner e ringrazio tutto il personale della Via Lattea che comunque ha contribuito a questo evento Vi aspettiamo anche sabato e domenica alla Via Lattea di Barcellona Perdi l'attimo Prendi l'attimo Prendi l'attimo Tu non lo sai come vorrei ridurre tutto ad un giorno di sole Prendi l'attimo